bentornato goodlier bentornata in questa nuova lezione ti descriverò una sezione un po particolare della guida al computer che normalmente è basata su un percorso abbastanza leggero e cercando di mantenerlo il più semplice possibile le nozioni infatti sono ad un livello abbastanza superficiale per non complicarci la vita tuttavia ogni tanto è utile conoscere qualche nozione più profonda per poter utilizzare il sistema operativo in maniera meno semplicistica ma che ci permetta comunque di risolvere alcuni problemi ecco appunto che in questa lezione ti darò informazioni utili che possono essere considerati per utenti al di sopra della media ma non ti preoccupare parlerò del prompt dei comandi di windows 8.1 update il prompt dei comandi è una funzionalità integrata praticamente in ogni sistema operativo windows che permette di eseguire alcune funzionalità tramite la scrittura dei comandi nella sezione ms dos e anche di altri comandi per il computer direttamente dalla tastiera in pratica scriverai ciò che il sistema operativo deve eseguire il tutto tramite delle stringhe di comando ben definite senza utilizzare la classica interfaccia a finestre che noi tutti conosciamo qui hai rappresentato uno screenshot di presentazione il termine prompt indica che il sistema in attesa è pronto a ricevere dei comandi il comando che dovrai digitare potrà essere riferito a tutta l'unità dove è installato il sistema operativo quindi tutto il disco rigido oppure soltanto ad alcune cartelle come si avvia ci sono varie possibilità eccole alcune la più rapida è andare sul pulsante start cliccando con il pulsante destro del mouse e troverai queste due sezioni prompt dei comandi e prompt dei comandi come amministratore cliccando sopra la prima si aprirà la finestra a sfondo nero con le scritte ed il cursore lampeggiante la seconda in particolare fornisce all'utente alcuni privilegi maggiori in quanto sarà un utente amministratore questo perché in alcuni casi è previsto che per portare a termine l'esecuzione del comando stesso bisogna risultare come amministratore del computer del sistema operativo altra possibilità d'avvio e tramite il comando esegui che già conosci sarà sufficiente scrivere nella sezione la scritta cmd e premere invio oppure cliccare sul pulsante ok ancora ultima che ti spiego avvia la chance bar inizia a digitare la scritta prompt quando comparirà prompt dei comandi cliccaci sopra e si avvierà appunto la finestra in questo caso il prompt sarà pronto a ricevere l'istruzione da eseguire prima di entrare però nel merito vediamo come variare i parametri della finestra che ti si è appena presentata cliccando con il pulsante destro lungo la barra del titolo della finestra nascerà un menu qui evidenziato tramite lo screenshot ottieni lo stesso risultato se invece clicchi con il pulsante sinistro su questa icona alcuni pulsanti saranno riferiti alla finestra e quindi potrai ridurla ad icona ingrandirla spostarla oppure chiuderla la sezione che forse è più interessante è quella proprietà si aprirà una nuova finestra in cui potrai gestire a tuo piacere la rappresentazione grafica della finestra del prompt dei comandi infatti troverai alcune sezioni opzioni tipo di carattere layout e colori come vedi rappresentati in questo screenshot con un po di voglia di pazienza prenderai pratica delle varie impostazioni che andranno a cambiare sostanzialmente le dimensioni e la posizione della finestra del prompt oppure il tipo il formato di carattere le loro dimensioni ancora il colore dello sfondo le dimensioni del cursore che lampeggia ed altri parametri quindi se vogliamo tutte impostazioni marginali come vedi questa è un'ampia personalizzazione per il tuo piacere per le dimensioni relative allo schermo e quindi al tuo monitor tralascerei appunto le spiegazioni riguardo perché sono abbastanza intuitive e poi giocarci un pochino indirizziamo invece sull'operatività dei comandi riferendoci a ciò che puoi scrivere in questo prompt il più semplice comando è quello che ti permette di evidenziare appunto tutta una lista dei comandi più comuni all'interno del sistema operativo in uso scrivi ad esempio help e poi premi invio sulla tastiera rapidamente scorrerà una lista dell'intera schiera dei comandi che potrai utilizzare dato che è molto ampia verosimilmente molto più lunga della visualizzazione del monitor è consigliabile utilizzare il comando help trattino verticale more in particolar modo la barra verticale è quella alla sinistra del tasto 1 che si genera premendo contemporaneamente il tasto maiuscolo e il tasto alla sinistra appunto di 1 dicevo help more ti permette di poter visionare in maniera più graduale tutta la lista dei comandi qui una rappresentazione grafica successivamente potrai premere invio e passerai alla riga successiva e così via oppure tramite la barra spaziatrice potrai scorrere una pagina per volta per poter visionare tutta la lista dei comandi come vedi qui c'è anche una descrizione sommaria di quello che esegue la stringa la sintassi è particolarmente importante in quanto se il comando non è propriamente scritto il prompt genererà degli errori e quindi il comando non verrà eseguito puoi avere qualche informazione generica su come scrivere la sintassi aggiungendo al comando uno spazio poi una barra in diagonale e il punto interrogativo dopo di che premere invio qui una rappresentazione che ti permette di evidenziare la metodologia di come va trascritto il singolo comando nella fattispecie riferito al comando ipconfig con una piccola descrizione di ciò che andrà ad eseguire questo comando particolarmente utile dalla pagina di wikipedia e non solo puoi trovare molte guide su internet è possibile avere una lista di alcuni comandi che normalmente possono essere specifici per il sistema operativo della microsoft infatti potranno essere diversi da versione a versione qui ti rappresento molto rapidamente questa enorme lista andando magari ad individuare soltanto alcuni dei comandi che potrai utilizzare come in questo caso specifico check disk che ti permette di analizzare il contenuto del disco e darti un report un referto dello stato del tuo disco oppure cmd ti permette di avviare di nuovo l'interprete dei comandi ms dos quindi una nuova finestra del prompt dei comandi passiamo avanti un'altra possibilità che può tornarti utile ad esempio il comando defrag che permette di riorganizzare i file in un disco rigido per ottimizzare l'uso questo comando se vuoi con i sistemi operativi relativamente recente è magari andato in disuso perché ottimizzano lo spazio in maniera del tutto automatica in questa sezione può tornarti utile se prendi esperienza sull'utilizzo del comando fs disk un comando che ti permette di creare partizioni all'interno del prompt dei comandi altro comando che magari avrai sentito nominare format che formatterà un disco che selezionerai all'interno del prompt dei comandi e il comando help che ti permette di evidenziare un aiuto una guida all'utilizzo appunto dei comandi all'interno del prompt ancora ipconfig che ti permette di visualizzare l'ip attualmente utilizzato del computer ma non solo anche altre informazioni relative alla rete more è il comando che ti permette di dare ulteriori informazioni al comando che avrai digitato come visto precedentemente per il comando help andiamo avanti un comando che ti potrebbe tornare utile print che permette di stampare un file di testo come vedi sto andando molto velocemente qui un comando molto potente sfc scan now che permette di verificare l'integrità di tutti i file del sistema ed eventualmente poterli ripristinare and late and format sono utili nel caso di eventuali errori di rimozione o di formattazione ci avviamo alla fine qui evidenzi appunto la sintassi di come chiedere ulteriori funzioni disponibili sulla spiegazione della funzionalità del comando semplicemente aggiungendo al comando la barra e il punto interrogativo come puoi vedere un'infinità di comandi ma non ti spaventare devi soltanto prenderne coscienza pian piano nell'arco del tuo percorso e identificare quelli che potrebbero servirti nell'utilizzo del tuo computer dovrai semplicemente imparare sul campo testando pian piano incrementando sempre più la tua conoscenza di questo prompt dei comandi alcuni per poterli utilizzare necessitano una conoscenza abbastanza importante perché se impropriamente utilizzati possono compromettere la funzionalità del sistema operativo quindi fai un po' di attenzione e utilizza quelli che ti permettono solo di visionare, consultare, ottenere informazioni quindi non operativi, non comandi operativi finché non saprai come agire come detto appunto digita qualora tu volessi avere informazioni particolari di quel comando lo spazio, la barra diagonale e il punto interrogativo ciò non toglie che esistono molte guide oltre alla presente che ti permettono di specificare dettagliatamente la funzionalità del singolo comando ti cito un paio di comandi che potranno tornarti utili ipconfig slash punto interrogativo e chdisk slash punto interrogativo il primo ti fornisce informazioni relative alle schede di connessione mentre il secondo esegue la scansione per il disco rigido per rilevare eventuali problemi qui un esempio appunto di rappresentazione del check disk con un'esecuzione che varierà in base alla potenza del tuo sistema operativo come tempo alla fine avrai un referto che ti permette di evidenziare lo stato del disco rigido lo spazio utilizzato e quello disponibile bene guter andiamo a vedere un po' di pratica come detto l'avvio del prompt dei comandi la cosa più semplice è cliccare con il tasto destro del mouse sul pulsante start dal menu si può avviare il prompt dei comandi normale cliccando su questa voce prompt dei comandi oppure cliccando su prompt dei comandi amministratore si avvierà la finestra come amministratore come puoi ben vedere la scrittura è diversa in questa sezione tu potrai agire come amministratore quindi con pieni comandi in quanto come detto durante la lezione teorica alcune operazioni possono essere realizzabili solo con i privilegi di amministratore mentre molte altre in una finestra normale chiudiamo per il momento quella normale e lavoriamo su questa di amministratore altra possibilità di avviare è tramite la funzione esegui semplicemente cliccando sul tasto esegui e scrivendo il comando cmd command come vedo in questo caso si aprirà la finestra del prompt non come amministratore altra possibilità dal pulsante cerca o dalla chance bar sempre pulsante cerca scrivendo prompt dei comandi non appena compare potrai cliccarci sopra con il pulsante destro per avviarlo come amministratore cliccando appunto sulla funzione esegui come amministratore cosa è possibile fare? innanzitutto andiamo a vedere alcune operazioni relative alla visualizzazione di questa finestra cliccando con il pulsante destro in questa zona si rappresenta un menu che puoi anche evidenziare cliccando su questa icona tra le varie possibilità relative al ridimensionamento riduzione icona o l'increndimento della finestra oppure la chiusura io direi visualizziamo le possibilità tramite la sezione proprietà cliccandoci sopra come puoi vedere ci sono varie sezioni opzioni, tipo di carattere, layout e colori la sezione opzioni ti permette di gestire le dimensioni del cursore piccolo, medio o grande oppure questa sezione il tipo di carattere ti permette di gestire le dimensioni del carattere evidenziato nella finestra qui il tipo di carattere consolas, lucida console o normale qui ancora il layout che ti permette di gestire le dimensioni di questa finestra per ingrandirla supponiamo di portarla a 150 pixel di larghezza per 100 di altezza puoi decidere anche o il posizionamento automatico oppure deselezionando questa sezione e impostando i tuoi parametri puoi decidere dove farla visualizzare lasciamo il posizionamento automatico eppure impostare lo sfondo puoi anche definire a tuo piacere un colore che più ti piace al termine cliccando su ok andrai a far applicare le operazioni come puoi vedere la finestra si è notevolmente ingrandita a questo punto subito alcune possibilità relative alla scrittura alla sintassi ora noi ci troviamo nella zona del sistema operativo di windows se tu vuoi spostarti puoi semplicemente scrivere la scritta c di due punti che sta per change directory cambia la directory e scali di 1 continuando ancora ritorni su c se vuoi invece andare all'interno della struttura d'albero sarà sufficiente scrivere change directory e la cartella dove vuoi posizionarti continuiamo e ripristiniamo alla scritta system32 così ci riposizioniamo all'interno della cartella di sistema detto questo ci sono alcuni comandi che potrai man mano imparare ad utilizzare ti stimolo a partire da quelli di visualizzazione che ti forniscono semplicemente le informazioni il più semplice è appunto il comando help quindi digitando help si srotolerà tutta la lista dei possibili comandi di questa versione di windows come puoi vedere è molto ampia allora sarà sufficiente scrivere help dopodiché ci aiutiamo con la tastiera virtuale il tasto accanto al tasto 1 come puoi vedere e poi la scritta more che ti dà la possibilità di visionare una pagina per volta tutta la lista dei comandi che qui puoi vedere e con una piccola descrizione diciamo potresti cominciare a prendere visione con un check disk che ti permette di controllare il disco rigido e visualizzare il rapporto sullo stato dello stesso dir ti permette di visualizzare l'enco dei file e della sotto directory in una cartella in pratica scrivendo dir tu hai la lista di tutti i file che si trovano all'interno della cartella che stai visualizzando in quel momento help appunto fornisce informazioni di aiuto per i comandi di windows con il tasto invio potrai visualizzare una pagina per volta mentre con la barra spaziatrice andrai a visualizzare una pagina per volta ecco qua una rappresentazione fino alla visualizzazione completa quindi possiamo provare a scrivere in questa sezione dir come vedi in questo caso avrai l'elenco di tutte le cartelle e file presenti all'interno della directory system32 chiudiamo questa finestra e avviamo come amministratore il prompt dei comandi ingrandiamo andiamo ad applicare ad esempio un altro comando che può tornarti utile ipconfig che ti dà la lista dell'ip del computer e altri parametri della rete applichiamo un check disk e avviamo questa esecuzione di controllo del disco questa operazione può durare qualche minuto in base alle prestazioni del tuo computer ed in base alla grandezza del disco rigido e al numero di file presente all'interno dello stesso mettiamo in pausa attendendo il report finale al termine del check disk hai il rapporto informativo che ti dà indicazioni sullo stato del disco come puoi vedere in questo caso siamo fortunati perché non c'è alcun settore danneggiato e qui altri parametri di uso del disco rigido ma torniamo alla scrittura l'altra possibilità che puoi eseguire è quella di avere informazioni relative alla sintassi è sufficiente scrivere il comando che vuoi eseguire spazio, uno slash e il punto interrogativo dopodiché hai evidenziato la lista della sintassi come va scritta per quel che riguarda il comando specifico ipconfig con alcuni esempi e una descrizione supponiamo di voler eseguire il comando ipconfig completo scrivendo spazio slash e all come definito qua dando invio avrò la lista completa delle schede di rete compresi gli indirizzi fisici delle mie schede di rete che ovviamente nasconderò e tutte le altre informazioni che ti potrebbero tornare utile per ottenere informazioni in questo caso specifico per l'ip del computer e delle schede di rete bene adesso voglio farti vedere come avviare tramite il prompt dei comandi l'esecuzione di un file supponiamo di voler far partire un file video che si trova in questa sezione avviamo il prompt dei comandi rimpiccioliamo per una milione visione sarà sufficiente trascinare il file all'interno della finestra del prompt dei comandi dare invio e dopo qualche secondo si avvierà in questo caso specifico il video selezionato ecco qua come puoi vedere è abbastanza semplice anche avviare l'esecuzione di un file anche se non sai dove è posizionato e come trascrivere l'intero percorso all'interno della finestra del prompt dei comandi puoi provare anche a avviare altri programmi che si trovano ad esempio all'interno della cartella system32 avviando come amministratore puoi semplicemente scrivere calc che è il comando per avviare la calcolatrice come vedi eccola qui evidenziata oppure il notepad e così via come puoi vedere con un po' di pazienza e un po' di creatività potrà tornarti senz'altro utile utilizzare questo prompt di comandi anche al livello nostro abbastanza semplice senza entrare troppo in profondità Nella prossima lezione ancora informazione in questa sezione del pulsante Start ora come sempre un forte saluto ciao a presto da Carlo e alla prossima Ciao a presto Ciao a presto Grazie.